Pazienti del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi rimasti senza farmaci. Le motivazioni? Pare che in diverse occasioni un dipendente della Sanita Service, società partecipata della locale Asle, il 42enne Brindisino Salvatore Sorge, abbia derubato la stessa azienda d'ospedaliera dei farmaci utili destinati ai ricoverati. Sorge, ausiliare addetto alle pulizie del reparto di anestesia e rianimazione, è stato così arrestato in carcere con le accuse di peculato e recitazione dei farmaci, trovati in alcuni ambulatori veterinari privati in cui venivano piazzati tramite un complice. Lo stesso Brindisino poi è anche accusato di truffa, in quanto nelle ore di lavoro svolgeva mansioni di muratore negli studi o nelle abitazioni di medici. L'arrestato rientra nell'inchiesta dei carabinieri del NAS di Taranto del comando provinciale di Brindisi, denominata Re Wind, che porta anche all'iscrizione nel registro degli indagati di ben 18 persone, tutte di Brindisi, sulla base di gravi indizi di colpevolezza costituiti da intercettazioni e pedinamento.